Forse che qualcuno di voi faccia qualche domanda, avete visto, credo che tutti abbiano visto, avete fatto un giro, quindi perché non procediamo così? Se qualcuno fa qualche domanda, perlomeno avrà il prezzo, c'è stata una lunga dirigenza, questi progetti hanno lunghi, tempi lunghi, tempi lunghi come è normale per l'architettura e poi abbiamo speso bene i soldi, sono stati spesi bene, devo dire che sono stati spesi spesi bene senza far follia e tutto quello che vedete costruito è stato costruito con una grande attenzione all'economia delle cose, non solo dell'energia che consumerà di luce ma anche come è stato costruito, quindi è una cosa che... E poi devo dire che le cose che appartengono alla comunità, alla cultura, alla parte educativa sono spesso fatte, tutto nel momento in crisi, sono nel momento in cui c'è bisogno di energia di rinnovamento e devo forse aggiungere anche un'altra cosa, che non vorrei che qualcuno pensasse che qui ci siamo cifre, no cifre, no cifre, no cifre, no cifre, no cifre, rispetto agli sprechi che a che si stiamo quotidianamente, non solo in questo paese, quindi è un uso di cui credo che si possa essere in questo paese, che in generale... Se lei dovesse spiegare a un non addetto ai lavori oppure a un giovane e solito architettura in cosa consiste la novità di questo progetto, cioè quali sono gli elementi caratteristici più innovativi di questo progetto, come glielo spiegherebbe? Grazie E questa è una domanda in cui forse, sono tutte cose un po' lunghe da dire, ma la prima che mi viene a mente è la luminosità, l'apertura, cioè i musei della scienza per antiche tradizioni sono luoghi abbastanza oscuri, sono sempre stati fuori abbastanza oscuri, anche perché bisognava riprodurre o simulare la natura attraverso questi biorama, questi teatrini che si sono sempre fatti, niente da dire, però ci sono bellissimi musei della scienza in giro per il mondo, che poi si sono rinnovati, ma spesso, e invece diciamo che il primo edificio per la scienza è stato quello di San Francisco, California College of Science, che abbiamo costruito, ho determinato fatto 5 anni fa, che è in mezzo al Golden Gate Park di San Francisco e che gode di questa grande luminosità, di questa grande apertura, perché il museo della scienza è sulla scienza, ma anche evidentemente per la comunità, quindi si muove aperto, accessibile, e questo è un altro museo molto, molto luminoso, insomma, questo è una caratteristica, ad esempio un elemento di novità, perché spesso invece sono un edificio che è molto accuso, l'altra novità, forse bisogna dirlo, è che è facile a dirsi, ma non è facile farsi un edificio luminoso, aperto, trasparente, che consumi poca energia, è molto più facile fare un edificio che consuma poca energia, se è diventato un bunker, se è diventato un edificio chiuso, con poca apertura, perché evidentemente ma a questo punto perde, e questo è un edificio che vuoi attraverso il gioco dei tetti, delle falde che flirtono col sole e lo catturano, si aprono, ma come faceva la fabbrica della Michelin, che catturava la luce da nord, quindi un po' questo, i pannelli solari, infatti usiamo la falda freatica profonda qui andando a prendere con delle sonde, il fatto che l'edificio ci ha fatto molta attenzione e questo è nato in un'unità, è luminoso, aperto, accessibile, luminoso, economico e consumo di energia. L'ultima cosa, ma naturalmente non è un fatto progettuale, è perché così è nato assieme a nord, assieme agli scienziati, questa idea di esprimere emotivamente la biodiversità attraverso questo grande spazio centrale, che è come una sezione attraverso la complessità della terra, anche questa idea di sfidare la possibilità, bisogna far volare tutto, anche le balene fa parte di questa idea, di piccerezza, questa idea un po' assurda.